Sto a pezzi, lo sai, lo vedi, però mi arrendo, ho detto semplicemente così, ho detto non faccio più niente, tiro i remi in barca, smetto di remare, di cercare di affannarmi, ero anche pronto a cambiare vita, proprio tutto, lasciare anche il mio lavoro, cioè proprio così, lascio fare a te. Da quel momento ti dico, effettivamente quella è stata la mia vittoria, dico che quando mi sono arreso lì ho vinto, quando ho perso ho vinto. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, luce nella società. Grazie per essere qui anche questa sera e quest'oggi ho il piacere di presentarvi un ospite che sarà molto piacevole conoscerlo appunto insieme e vi presento appunto Alessandro Mancini. Ciao Alessandro e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Giovan Battista, ciao a tutti e grazie a te per l'invito, è un piacere. Devo dire che ti ringrazio anche perché hai subito accettato questa nostra proposta, è stato davvero bello anche conoscerci e dialogare nel frattempo e adesso averti qui è davvero un piacere. Piacere mio. Alessandro tu sei un modello, scopriremo anche le altre cose che hai fatto, io non voglio spoilerare nulla diciamo e la domanda che faccio un po' a tutti, un po' per rompere il ghiaccio anche se riconosco che potrebbe essere anche una domanda molto esistenziale e difficile allo stesso tempo, è se tu dovessi rispondere alla domanda chi è Alessandro Mancini, cosa risponderesti? E' una bella domanda questa, è studiata, è studiata. Sì è una domanda veramente bella perché dovremmo partire proprio dal concetto, anzi ti direi quello che non sono e non sono quello che faccio perché tante volte noi quando facciamo, quando ci presentiamo diciamo ok io sì mi chiamo Alessandro Mancini, ho 31 anni, faccio magari ti potrei dire nel mio caso faccio il modello, ok? Subito facciamo una distinzione, spesso e volentieri, cioè non una distinzione, un'assimilazione tra quello che noi facciamo e quello che noi siamo, ma in realtà... Come se fosse la stessa cosa. Come se fosse la stessa cosa, in realtà non è così, penso proprio che non sia così, quindi sì faccio il modello ma Alessandro non è soltanto quello che fa, è una persona, ha una sua identità, un'identità che ha, devo dire che ha riscoperto. Tanto tempo fa, che in realtà non conosceva forse e che sta continuando a conoscere e scoprire passo dopo passo, step by step come figlio di Dio, in realtà lo dico proprio apertamente perché è lì che ho ritrovato un po' anche veramente me stesso, non ho soltanto conosciuto Gesù ma ho anche conosciuto meglio me stesso e ritrovato me stesso. È un modo anche per conoscersi ancora di più, ecco. Tu appunto, dicendo chi non sei, ha detto anche che sei un figlio di Dio, no? Sì. Da dove è nata questa voglia di conoscere Dio? Dal più profondo del mio cuore, sicuramente, se dobbiamo individuare il luogo in qualche modo. Se dovessimo individuare il tempo, invece, è successo particolarmente nel periodo adolescenziale. Quando... Di solito il periodo adolescenziale è quello più complesso in cui si mettono in discussione molte cose che fino a quel tempo abbiamo tenuto come salde nella nostra vita. Sì. Troppo più ribelle anche. Sì, 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 sicuramente. Metti in discussione un po' te stesso anche, in un certo senso, anche tutto quello che è l'infanzia, anche in un certo senso, nel modo in cui sei cresciuto, no? E penso che spesso e volentieri avvenga in maniera naturale, proprio automatica quasi. Per me, per esempio, è stato così. Sì, dai 16 ai 18 in particolare, quello è stato un periodo in cui, senza rendermene conto e senza che neanche lo cercassi in qualche modo, stavo veramente cercando di capire chi fossi, di anche capire un pochettino quale fosse il senso della vita in generale. Sebbene non sapessi come farlo e non avessi neanche i mezzi né gli strumenti per farlo, forse, in un certo modo. Sì, per trovare una risposta. Esatto. Però in qualche modo lo facevo. Oggi, col senso di poi, quando mi guardo indietro, vedo che Alessandro in quel periodo questo stava facendo, stava cercando di fare, in pratica. E in quel periodo particolare, dico, ero molto così, insoddisfatto dalla vita. Avvertivo anche un certo vuoto, mi facevo delle domande e avvertivo che c'era qualcosa che non andasse, ma che proprio non c'era. Come se fosse una mancanza proprio nella mia vita, sì, dentro di me, che cercavo in qualche modo poi di colmare con quello che la vita stessa aveva da offrirmi. Poi ero anche molto bravo, bisogna dire anche questo, ero molto bravo anche a mettere delle maschere, a far sembrare che era tutto a posto, che ero sempre felice. Bravissimi questi, tutti. Che ero felice, che andasse tutto bene, che non mi mancasse nulla, ma in realtà poi avvertivo dentro di me questa cosa, soprattutto quando, ecco, qui in quei momenti in cui sei da solo, soprattutto. I momenti in cui rifletti sulla tua, sulla tua vita, spesso anche prima di andare a dormire, spesso è il momento che avviene, dove è più facile che ciò avvenga. E dove sei solo tu e Dio, veramente. E lì poi non sai perché, magari avverti quello che avverti, no? Dato questo stato, io poi, ecco, quando non stai bene con te stesso dico sempre non sai stare bene, non puoi stare bene neanche con gli altri. Infatti, soprattutto in quel periodo, era un disastro in generale, anche nelle relazioni, proprio attorno a me, con chiunque. E racconto sempre che, come sono andati i fatti poi d'altronde, no? Una sera litigai con mia sorella. E arrabbiatissimo mi chiusi in cameretta, sbattei la porta e me la presi, non so perché, ma con lui. Con Dio. E gli dissi, ok, io sto qua piangendo, nervosissimo, ho detto, se tu ci sei veramente fatti vedere, perché sennò per me tu non esisti. Non è possibile che tu sei un Dio d'amore, come dicono, e a te di me ti interessa niente. Io sono qua, mi sento un morto dentro, e tu che fai? Guardi. Guardi e basta, non fai niente. Fai qualcosa perché sennò tu per me non esisti. Questa è stata, io penso che veramente per la prima volta questa è stata la mia preghiera, la prima volta che ho pregato veramente, seppur nella rabbia, però ecco era proprio un grido del cuore che stava uscendo fuori. Ma fino ad allora che concezione avevi di Dio? Concezione credo che purtroppo un pochettino, un po' tutti hanno, cioè nel senso, ok, ci credo, sì, c'è, però non lo conosco. Cioè non ho un rapporto con lui, non ho questo legame in qualche modo. So che ci sei, ma in realtà non so chi tu sia. Poi come il classico italiano medio, chiesa due volte l'anno, Pasqua e Natale. Esattamente. Esattamente uguali denti. Esatto. E quindi anche lì si perde un po' di quel rapporto comunque di comunità che anche la chiesa ti può dare, ecco. Comunque, torniamo al focus. C'è però di questa preghiera disperata comunque a Dio. E cosa è successo dopo? In quell'esatto momento niente. Finita là, però passano un paio di settimane. Ero per il centro con dei miei amici, il centro di Pescara, la mia città. E c'era un'edicola lì sul corso che esponeva, aveva la locandina esposta del libro di un caro amico e fratello che è Nicola Legrostagliano. Che abbiamo avuto anche noi in studio, lo salutiamo. Lui all'epoca aveva scritto il suo primo libro. Ho fatto una promessa perché la fede ha cambiato la mia vita. Io mi ricordo tutta l'ecquale di aver visto quella locandina e non so perché, però quella vocina interiore che ti chiama e ti dice va, prendi sto libro, compralo, leggilo. Io non è che fossi mai stato un grande amante di libri o lettore, già troppo se leggevo quelli di scuola. Anche se è andato abbastanza bene, però non mi parlate di altre cose, già faccio abbastanza, diciamo. Però non è che insomma, appunto era, mi limitavo già che erano troppi quelli per me. Però compro questo libro, me lo mangio veramente, in due giorni me lo sono divorato. È stato proprio una lettura così scorrevole, ma allo stesso tempo che mi aveva, mi c'ero immerso, coinvolto. Infatti effettivamente mi rispecchiavo molto, proprio dal punto di vista, sia di trascorso, perché comunque poi è un po' un trascorso simile, anche se abbiamo due età diverse. Però effettivamente mi rivedevo molto in quello che lui aveva vissuto, che raccontava di aver vissuto prima di conoscere Gesù, e che era il mio presente dell'epoca, no? Quindi si ha il rapporto poi in realtà con tutte le cose della vita, in generale, nelle relazioni che siano le ragazze, che siano i soldi, gli allenatori, la materialità, il calcio stesso. Comunque ecco, ero anche un calciatore, giocavo anche a calcio, a quei livelli come lui, però sicuramente il mio piccolo comunque è uno del massimo. Esatto. Quindi c'erano anche tante cose e passioni in comune. Ecco, io dico sempre che il Signore poi sa anche come parlare, come arrivare ad ognuno di noi, come parlare al nostro cuore. Sì, se poi attraverso ogni esperienza, quella piccola particolarità, quel piccolo dettaglio, può parlare davvero di quelle delle persone che magari hanno fatto, un po' come hai fatto tu nella tua stanzetta, quella domanda, e forse da quell'esperienza possono avere quella risposta. Assolutamente sì. E tu hai letto questo libro? Ho letto questo libro e nello stesso momento in cui l'ho finito di leggere, ero in camera mia, e per la prima volta mi sono reso conto che effettivamente forse il problema non era al di fuori di me, cioè non erano necessariamente gli altri o le altre situazioni. E per la prima volta mi sono reso conto che effettivamente c'era qualcosa dentro di me che non andava, c'era... ho avvertito anche una sensazione di sporco, dico la verità, proprio come se qualcosa dovesse essere pulito, la mia anima dovesse essere pulita. E quindi quello sporco oggi io lo chiamo peccato, ma la radice di peccato è che tutti quanti umanamente abbiamo ereditato e sappiamo che purtroppo è quella che poi ci spinge, ci porta ad azioni che siano di qualunque tipo, su qualunque fronte, sbagliate, peccaminose, ma che sono semplicemente radice del nostro orgoglio, del fatto che abbiamo in qualche modo pensato che noi potessimo fare a meno di lui, semplicemente quello. Sì, poi inevitabilmente uno può anche limitare la fonte del peccato, però è quasi inevitabile peccare comunque il nostro mondo, forse perché sono d'accordo con te, perché spesso vogliamo cavarcela da soli, cioè non abbiamo bisogno di nessuno, noi da soli alla fine non abbiamo problemi, quando invece in realtà noi chiediamo l'aiuto di Dio solo quando siamo con le spalle al muro, ecco. E come quando, non so se hai mai montato un mobile dell'Ikea. Sì. Ok. Se tu provassi a montare il mobile dell'Ikea senza leggere il libretto delle istruzioni... Tipo Picasso, mobili di Picasso. Allora, io sei particolarmente dotato che sai esattamente come fare, come montare ogni vite, come ogni cosa, o altrimenti farai una schifezza, detto sinceramente, non monterei una cosa storta. O ti mancheranno delle viti, o delle viti in più, o dei pezzi in più, cosa ci faccio con questo? Diciamo che quella guida mette ordine. Esattamente. Non è facile ottingere da questa guida. Io mi rendo conto che effettivamente stavo facendo esattamente, stavo montando il mobile dell'Ikea senza il libretto delle istruzioni nella mia vita. E ti dico la verità, la tendenza certe volte può tornarti di farlo, perché umanamente tu magari pensi che sei capace magari di gestirtela da solo la tua vita. Senza sapere che in realtà hai una soluzione a portata di mano, che è in realtà un indirizzamento e ti aiuta proprio a farle le cose come esattamente sono state progettate per essere fatte. Oggi, ti dico, quel libretto delle istruzioni l'ho trovato nella Bibbia. La Bibbia è una mappa, la Bibbia è veramente un'indicazione proprio per la vita in generale dell'essere umano. Giustamente ecco, il creatore del mobile di Ikea sapeva esattamente come doveva essere montato e creato per svolgere la sua funzione, quel mobile, no? Alla stessa maniera il creatore ha creato la creatura, l'uomo, sapendo esattamente come funziona. Per filo e per segno e per fargli espletare la sua funzione, anche il suo scopo, effettivamente. Questo l'ho scoperto un po' dopo, nel momento in cui avevo riconosciuto questo problema, che è il peccato, nel mio cuore. Lì per la prima volta ho chiesto perdono, effettivamente, ho chiesto perdono di essere, dei miei peccati di essere perdonato. Ho chiesto a Dio proprio di, ok, riconosco io aver fatto schifo, completamente, insomma, tutto quello che avevi pensato di che io potessi fare, non l'ho fatto, è quello che magari ti aspettavi che io non facessi, sì, l'ho fatto, tranquillamente. Ho detto, però, ho bisogno di, se puoi, in qualche modo perdonami, ho detto. Non ti prometto che ci riesco, gli ho detto, però ti prometto che provo a seguirti, perché sento che devo farlo. Tanto peggio di così, non puoi andare. Ho detto, stavo proprio a terra. E ti dico la verità, in quello stesso momento, come ho finito di dire queste parole, e qui dico, è la seconda volta che prego veramente dal cuore, però questa volta un po' più calmo. La prima volta era stata un po' più nervosa. Esatto. Un po' più nervosa. Ecco, in quel momento è scesa una pace nel mio cuore, da quel momento ero nella mia cameretta, quindi è scesa una pace nel mio cuore, mi sono reso conto che Dio c'era. E lì, allo stesso tempo era strano, perché era una cosa che non avevo mai vissuto, era una cosa che mi aveva riempito, e mi aveva riempito quel vuoto che avevo fino a quel momento, no? Di cui dicevo prima. E era sparito in un momento. E la mente mi diceva, ma che? Ma che sta succedendo? Ma veramente? Eppure dall'altra parte ero consapevo del fatto che allora ci sei, allora tu esisti. Bello, allora ti voglio conoscere. Come ti faccio a conoscere? Riprendo la Bibbia. Ho iniziato a leggere la Bibbia, ho iniziato veramente a riorientarmi nella mia vita. Che col senno di poi si cominciano a unire i puntini, no? Secondo te, anche tramite la lettura sicuramente dell'esperienza di Nicola Le Grottaglie, ma anche attraverso quella preghiera, la tua seconda preghiera, si può dire che hai ricevuto la risposta alla prima preghiera che hai fatto? Sì, assolutamente sì. Quello è stato... Allora, il libro di Nicola è stato una, gli dico sempre, una scintilla per accendere la fiamma. E quindi è stato in un certo modo quello strumento, quell'indizio, quell'incipit che ti ha dato poi la possibilità di arrivare veramente al focus, al centro del problema e quindi anche della soluzione. Trovato il problema, trovate anche la soluzione. Quindi Gesù è stata la soluzione. È la soluzione. Esattamente. Tu ci hai detto che rispetto alla prima preghiera del rabbio, sono passate tante settimane, no? Un paio di settimane sono passate. E spesso molti giovani, anche me compreso, che non sono così tanti, veramente abbiamo la stessa età, quindi non so se ti offendi se ti dico che non siamo più tanto giovani. Dai, posso perdonarti. Esatto. No, però spesso una cosa che mette in comune molti giovani è il fatto che l'attesa della risposta di Dio è molto snervante, che di fatti è vero, però poi quando arriva la risposta dopo un po' di tempi, che possono essere settimane nel tuo caso, quando abbiamo pranzato insieme, ti ho detto anche anni per avere una risposta, quando poi arriva lì è proprio la pace, la liberazione. E tu come gestisci in generale comunque l'attesa delle risposte di Dio? Non ti dico che magari è sempre una passeggiata, nel senso, è sempre così, facile. Allora, la pazienza, dice per fede e per pazienza si ottengono le promesse, no? La pazienza è anche, poi ci vuole un frutto, un frutto dello spirito. E l'ingrediente alla base principale, prima ancora, è la fede appunto, cioè nel senso di credere, ma credere che in realtà è una fiducia. Quando tu ti fidi di una persona e sai che quella persona effettivamente mantiene le promesse che ti fa, tu ne hai anche prove, hai avuto anche prove magari nella tua vita, impari a essere anche più impazienti, ma che è una semplice attesa del fatto di sapere che la risposta arriva. Ora, noi umanamente certe volte potremmo essere un po', c'è la tendenza ad essere impazienti perché vorremmo le risposte tutto e subito, ma la pazienza ci aiuta a questo, è fondata sulla fiducia intanto e ci aiuta anche ad essere fiduciosi. La vedo molto così. Un po', anche come dicevamo prima, anche l'attesa di una risposta vuol dire anche mettere Dio al volante della tua auto. Perché, cioè, se lui guida, tu sai che la direzione la prende lui, anche se non so dove andremo a finire, in che posto andremo, però lui ha il comando. Quando invece siamo noi a guidare, come ogni autista, siamo impazienti di sapere indicazioni, dove devo andare, adesso cosa devo fare. E lì, anche forse, probabilmente anche la società in cui viviamo in questo momento che ti porta un po' di ansia e stress su quello che vuoi fare, viviamo sempre, dopo la laurea, dopo il diploma cosa fai, dopo la laurea cosa fai, che lavoro fai, quando ti sposi, e i figli. Siamo sempre, costantemente oppressi da qualcosa che ci manca. Però, forse, mettere Dio al volante è quella camomilla che ti fa calmare proprio di brutto e ti fa trovare pace, come un po' ci hai raccontato tu, attraverso la tua esperienza, sì. Siamo abituati forse alla società del fast food, dico sempre, del tutto e subito. Il marketing oggi ti propina bisogni prima ancora che ti sorgano, quindi, già ti do quello di cui ti serve e che non sai che ti serve. Quindi, già siamo bombardati e in qualche modo anche abituati. La nostra forma mentis poi prende questa piega, diciamo, no? Ma a me piace proprio il fatto che Gesù e in generale, anche poi nella Bibbia in generale, vediamo che uno degli esempi principali che è completamente poi opposto è quello del coltivatore, ad esempio. Se tu guardi l'agricoltura, il tempo che passa dalla preparazione del terreno alla semina, questo seme lo annaffi, lo cresce, inizia a crescere, poi lo curi mentre cresce e poi una volta che è cresciuto porta anche i suoi frutti, cioè non parliamo di due secondi esatto, o tre nanosecondi, cioè nel senso come adesso con la tecnologia, parliamo di mesi, anni, cioè periodi lunghi dove tu dall'inizio alla fine, da quando prepari quel terreno per la semina sai già che arriverà il raccolto, arriverà il frutto. Ora, è un approccio completamente diverso, questo è un approccio completamente diverso, è un sistema completamente diverso, ma alla base come il coltivatore, cioè la fiducia, è la fede, la speranza, no, che quello che stai seminando poi ti porterà il frutto. Nel regno di Dio funziona effettivamente così, il regno di Dio è un modo di vivere, è uno stile di vita in un certo senso, una mentalità, non è qualcosa che poi ti rendi conto che cresce, nasce e cresce dentro di te e che puoi veramente vivere, praticare attivamente nella tua quotidianità poi in ogni situazione. non è banale, non è banale ed è anche molto difficile da fare, io mi rendo conto che spesso tipo nella mia vita ho avuto difficoltà a fidarmi di Dio proprio perché è la mia vita, voglio sapere quello che tu hai in progetto per me, però mi rendo conto che quando ed è una cosa che questa ricerca di domande, 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 perché succede questo e perché mi stai portando da questa parte è una cosa che ti logora anche dentro perché di base comunque la risposta non è mai immediata, non stai parlando come stiamo facendo io e te in questo momento quindi questa attesa, questa richiesta ti fa davvero tanto male. quando invece capisci che io dedico la mia vita a lui tu sai qual è il mio bene io mi fido di te basta come ritorniamo sempre a quel concetto ti scende anche proprio a livello fisico quella pace che ti fa davvero davvero bene ti porta avanti ti fa sentire come se cammini un palmo sopra terra quindi tanta roba assolutamente sì e impari a affidarti anche del processo che poi è appunto un processo un percorso qualcosa che ha la sua che poi il processo è anche la parte più bella della relazione con Dio sì perché conosci un modello totalmente diverso di te e ti interfacci con un modello totalmente diverso che è quello di Dio tu questo processo come l'hai vissuto perché tu ci hai raccontato la scintilla sì e poi sei partito poi sono partito sì vabbè nel senso è stato questo processo e questa anche questa relazione oserei dire perché poi mi piace molto parlare di questo perché è proprio un rapporto diretto ha avuto i suoi alti e bassi non lo nascondo mai ha avuto i suoi alti e bassi nell'arco degli anni alti e bassi dovuti principalmente in realtà al fatto di imparare a conoscere sia lui ma anche me stesso e imparare veramente a rendermi conto cioè più che altro a imparare a rendermi conto cioè di effettivamente di come lui vede me che è ben diverso da quello che magari alle volte posso in qualche modo di come posso in qualche modo inquadrarmi e vedermi io no e questo ecco in questo processo piano piano si è affinato si è affinato il tiro si è affinata la relazione no si è si è si è inquadrato è come se mi sta impari a camminare è come effettivamente un po' l'esempio del bambino piccolo no che nasce poi come piano piano inizia gattona poi inizia a mettere i primi passi quando mette i primi passi cade sempre ma se non cadesse non imparerebbe mai neanche a stare in piedi e quindi ecco ci sono ci sono le cadute ci sono le i momenti in cui ti rialzi e impari a camminare meglio di prima fino a quando anche impari a correre magari e io l'ho visto così l'ho vissuto così sicuramente ma tuttora è così è una è un rapporto in crescita è un processo che anche muta negli anni nel corso del tempo perché non è chiaro io non sono lo stesso di dieci anni fa per dire il mio rapporto anche con Dio non è lo stesso di dieci anni fa io non mi vedo neanche come mi vedevo dieci anni fa neanche come mi vedo due anni fa forse non è un certo ma veramente ci sta no dieci dunque un mese fa no ma ci sta non è oltre alla battuta però davvero però mi piace tantissimo e sono d'accordissimo con te il fatto di definire il rapporto che c'è con Dio come una relazione sì che si può paragonare secondo me non è una blasfemia blasfemia paragonare il rapporto che puoi avere con una fidanzata con un amico con lo stesso rispetto a quello che è con Dio perché si instaurano le stesse dinamiche se tu non coltivi la relazione con il tuo partner prima o poi morirà se tu non coltivi la relazione con Dio idem succede la stessa cosa e all'interno di quelle relazioni ci possono essere evoluzioni ci possono essere anche attraverso stati d'animi persone situazioni che possono succedere alti e bassi però stare comunque uniti poi cresci vai avanti più forte di prima con quella relazione quindi si corre sì si può cadere anche quando si corre però è bello farlo insieme questo è un percorso ti carica ti carica abbastanza no assolutamente nel come appunto ogni relazione tu ci hai parlato ci sono degli alti e bassi no e ci hai parlato che comunque la scintilla l'hai avuto comunque in fase adolescenziale in cui ben o male 18 anni si dice esatto ben o male si è comunque un po' ribelli si apre comunque al mondo 18 anni quindi università si comincia vedere posti nuovi e frequentare persone diverse e hai avuto un momento in cui magari hai sentito dentro di te l'esigenza di fare un passo indietro rispetto a quella scintilla allora no in realtà no dico la verità esigenza di fare un passo indietro no tentazione sì tentazione sì ma più che altro legato legato molto al al fatto ecco torniamo al concetto di prima che in qualche modo comunque volevo stare io al controllo volevo comunque ho fatto fatica ad arrendermi poi nel processo ad arrendermi all'essere veramente pienamente totalmente guidato quindi ecco magari certe volte qualche pensiero che facilmente il contesto in cui vivevo e vivo anche lavorativo non nascondo che ha provato in qualche modo sempre a farmi vedere lo specchietto delle allodole dico io no dice guarda quanto è bello questo che alla fine qua ti diverti di più questa cosa ti piace magari vai che puoi fare questo vai che puoi fare quest'altro guarda che opportunità che hai no che ti sembrano magari lì sul momento anche buone ecco questo è poi mi rendo conto mi sono reso conto che è un inganno e quindi qualche volta ho anche ceduto qualche volta ho anche sbagliato qualche volta ho anche mangiato la terra dico io ok l'ho sentito il sapore lo sai poi qual è effettivamente di di non certe volte bisogna non bisogna per forza cadere ok è saggio ecco io condivido la mia esperienza no come magari tu puoi condividere la tua ognuno può condividere la sua e se noi siamo saggi possiamo trarre insegnamento dall'esperienza dell'altro non per forza per compiere gli stessi errori ma proprio per prevenirli e ti dico la verità se fossi stato più saggio forse fossi stato più saggio certe volte avrei evitato sicuramente certe situazioni certi dispiaceri certe complicazioni certe situazioni che magari sono state difficili certi problemi anche no che magari appunto potrebbero evitare forse sì potevo sicuramente situazioni che potevano essere vissute sicuramente meglio ecco ecco e quindi buono parlarne buono anche condividere anche dei propri fallimenti certe volte dicono anche dei propri errori perché questi servono sempre e si impara la lezione soprattutto non devono essere per forza una vergogna spesso vediamo il fallimento come adesso come lo dico in giro invece no ragazzi si sbaglia forse torniamo dal suo concetto viviamo in una società che ti mette così tanta pressione che il fallimento viene visto come una catastrofe una botta d'arresto ci rialziamo e ripartiamo più veloci di prima e attraver poi anche lì rientra il in gioco Dio attraverso quell'esperienza negativa che magari potevamo gestire meglio ascoltando gli altri che hanno fatto la nostra stessa esperienza però a volte siamo testati a volte vogliamo proprio sbattere la testa sul muro proprio come si dice di solito però attraverso quell'esperienza negativa poi Dio ha la potenzialità di convertirla in qualcosa che ti fa del bene assolutamente non è facile non è immediato come passaggio però di solito a me personalmente è successo una cosa del genere quindi è anche un po' un incoraggiamento verso che a volte l'errore non è un punto d'arresto ma un punto in cui si può ripartire assolutamente e poi l'errore ci fa effettivamente rendere conto della nostra anche umanità della nostra debolezza e di quanto abbiamo bisogno della sua forza veramente quando Paolo diceva la tua grazia mi basta perché la tua forza si manifesta nella mia debolezza era proprio questo il concetto cioè nel senso io ho bisogno di rendermi conto anche di quanto sono deboli e ti dirò di più questa cosa secondo me aiuta anche a smontare un po' questo concetto di perfezionismo di standard che un po' la società il mondo in qualche modo ci dice che dobbiamo del modo in cui dobbiamo apparire no? dobbiamo dico sempre la nostra vita noi cerchiamo sempre di manifestarla come una una copertina di instagram no? capito? cioè se vedi le foto su instagram tutte precise perfette tutte le wall le vite perfette di tutti quanti mai nessun errore mai nessuno sbaglio mai nessuna difficoltà è vero ragazzi cioè togliamo proprio la maschera di questa cosa cioè siamo veri questo ci aiuta ad essere veri anche e trasmettere un un messaggio autentico ecco non non finto che poi tendiamo purtroppo ad assorbire questa cosa che volendo essere perfetti in qualche modo cerchiamo il perfezionismo e ci ritroviamo a vivere una finzione non è così non è così torneremo su questo concetto perché sicuramente è importante e voglio approfondirlo sì perché davvero ogni giorno tutte le vite sembrano pagine bellissime di Instagram e poi in realtà cioè o sono extraterrestri oppure c'è qualcosa di diverso che è o più umano di base e tu quando hai scelto proprio di abbandonare totalmente il controllo della tua vita a Dio eh allora ti dico ho iniziato a 18 anni però in realtà poi mi sono reso conto forse meno di due anni fa effettivamente che in realtà stavo vivendo ancora un po' a modo mio no e ti dico la verità il Signore è talmente buono è talmente misericordioso di me e che che lo ha fatto anche attraverso soprattutto il mio lavoro sembra strano e sembra assurdo forse però io sono sempre stato caratterialmente molto caparbio potestardo umanamente così è sempre stata un po' la mia tendenza e sono sempre stato quel tipo di persona che si fissava un obiettivo e faceva di tutto a tutti i costi cioè per cercare di raggiungerlo e mi puntavo però era difficile una volta che mi puntassi tu mi potessi schiodare da quella da quell'obiettivo e è successo che io fino a qualche anno fa ecco volevo veramente sfondare nel mio lavoro nel mio campo già facevo il modello che lo facevo però in una maniera buona però volevo farlo in una maniera ancora più professionale arrivare a un certo livello un certo top e volevo infatti sai quando parli di moda la città della moda è Milano certo e avevo questo obiettivo di andare a Milano e e quindi di sistemarmi lì in qualche modo trovarmi un'agenzia buona lì e iniziare a lavorare lì avevo cerco di farla un po' breve insomma ho contatti trovo contatti con questa agenzia inizio vado a Milano mi riesco a organizzare finalmente due settimane di disponibilità perché poi là sostanzialmente vogliono che tu sia disponibile lì in città mi riesco a organizzare queste due settimane per fare casting a Milano e succede che non ne faccio veramente neanche uno una cosa assurda stranissima io ero andato lì per questo motivo e questo progetto questo questo mio intento era andato completamente a rotoli completamente in frantumi quindi tu puoi capire umanamente e professionalmente come mi sentissi poi una persona come te che vuole arrivare all'obiettivo quando poi non raggiunge ero arrabbiatissimo cioè nel senso di una frustrazione che non ti spiego però nello stesso tempo in quel periodo ecco io dico sempre noi tante volte portiamo avanti i nostri piani ma Dio porta sempre avanti il suo magari il nostro piano sta qua ma il suo sta sempre sotto che sorregge e sostiene il tutto e ti dico la verità in quelle due settimane una delle persone a me più care che sono lì a Milano in quelle due settimane io so che sono stato mandato per lei per quella persona perché lei in quella settimana ha aperto il suo cuore a Gesù ed è cambiata la sua vita e io da una parte vedevo veramente questo è stato quelle due settimane per me sono state una baboum due sberle in testa capito proprio a farti dire a farti rendere conto da svegliare e dire guarda un po' come funziona che c'è un piano eterno che è il mio che è stabile non cambia e poi ci sono i tuoi i tuoi che insomma sono stabili e poi non sono poi per forza come i miei e comunque tu stai cercando di fare di raggiungerli da solo con le tue forze ok quindi questo è il sunto di quelle due settimane torno a casa e mi rimetto in preghiera nonostante fossi arrabbiato nonostante fossi deluso però io sapevo che ho sempre avuto questa da quando ho conosciuto Gesù che ho sempre avuto questa consapevolezza che in lui potessi correre sempre da lui potessi correre sempre potessi sempre in qualche modo tornare anche quando avevo anche quando come quando sei un bimbo magari che giochi a calcio e torni a casa con le ginocchia sbucciate è proprio l'esatto esempio è proprio quello ed ero forse non ero solo le ginocchia ma ero proprio ucciso tutto ero sfragellato tutto sono tornato da lui e ho detto ok sto a pezzi lo sai lo vedi però mi arrendo ho detto semplicemente così ho detto non faccio più niente tiro i remi in barca smetto di remare di cercare di affannarmi ero anche pronto a cambiare vita proprio tutto lasciare anche il mio lavoro cioè proprio così lascio fare a te da quel momento ti dico effettivamente quella è stata la mia vittoria dico che quando mi sono arreso lì ho vinto quando ho perso ho vinto perché ho veramente ho visto da quel momento in poi in vari modi e con un po' di anche con un po' di tempo ma da subito il signore mi ha ricominciato a parlare a dare indicazioni a farmi rendere conto di quale effettivamente fosse la priorità nella mia vita perché ho messo priorità sbagliate il lavoro è diventato la mia priorità avevo fatto effettivamente delle scelte che erano sì ok sono tuo figlio ma sto facendo di testa mia sostanzialmente e non sto veramente effettivamente guardando come diceva quando ha detto Gesù cercate prima il regno di Dio e la mia giustizia e tutte queste altre cose vi saranno date in più cioè nel senso non mancherete ma cercate prima il regno perché la priorità è quella il regno di Dio e la sua giustizia e stavo vedendo i frutti di una priorità sbagliata nella mia vita e nel momento in cui ho lasciato perdere mi sono rifocalizzato su di lui veramente sul suo sul suo piano sulla sua guida e non sul cercare di fare io ho visto veramente cambiare le situazioni anche a livello professionale ci sono state cose che da solo io non avrei mai fatto in questi ultimi due anni parliamo degli ultimi due anni sono esperienze anche lavorative professionali io dico sempre io ringrazio Dio perché perché ha fatto di più lui in due anni professionalmente che non quanto abbia fatto io in 30 anni nel troppo della mia vita veramente da parlo di un esperienze all'estero un viaggio in India che è stata un'esperienza veramente particolare guidatissima miracoloso direi pure fino a altre esperienze a livello poi sempre a livello internazionale lavori anche qui a livello nazionale in Italia che sono state sbalorditive e proprio qualche mese fa la pubblicazione di alcuni di questi lavori è stata proprio qualcosa di clamoroso di di evidente direi una testimonianza evidente del suo amore della sua fedeltà della sua bontà della sua grazia e di quanto effettivamente lui sia potente sia capace non io ma non io e la e questo è stato è stata una delle cose più che mi ha spezzato veramente in due tu ci hai parlato ci hai fatto assaggiare un pochettino anche il tuo mondo lavorativo e di cui voglio parlare nella prossima puntata quindi per adesso ci fermiamo qui lasciamo un pochettino un po' di suspense agli ascoltatori e intanto ti ringrazio per questa prima parte in cui ti sei aperto grazie per essere con noi io invito gli ascoltatori anche a seguire quindi la puntata che ci sarà mercoledì prossimo sempre alle ore 20 in tutte le nostre piattaforme quindi su youtube cercando Hop Media Italia Spotify Apple Podcast Google Podcast cercando Social Live Podcast mi invito inoltre anche a seguire la nostra pagina Instagram dove pubblichiamo chicche delle puntate che vivremo e spoileriamo un pochettino anche le puntate che vivremo nelle settimane successive e io vi auguro una buona serata ancora grazie per la sua a Grazie a tutti.